Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Commercio, installazione di ripetitori di telefonia mobile, ambiente, politiche industriali nella concaternana. Di questo si è parlato nella seduta della seconda commissione consigliare. I dettagli nel servizio di Alberto Scattolini. Un disegno di legge e due interrogazioni all'ordine del giorno della seconda commissione presieduta da Eros Brega. L'assessore regionale Fabio Paparelli ha illustrato il disegno di legge della Giunta che prevede modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13 del 2014, il testo unico del commercio. La necessità degli aggiornamenti al testo, per i quali il presidente Brega ha previsto apposite audizioni con i soggetti interessati, è emersa dopo l'analisi della legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha segnalato la presenza di alcune criticità in ordine alla coerenza del testo di alcune disposizioni con il quadro nazionale di riferimento. Una modifica è stata proposta anche da Confcommercio riguarda l'organizzazione delle vendite straordinarie e promozionali relativamente alle modalità di compilazione dei cartellini prezzo dei prodotti in vendita. Successivamente, lo stesso assessore Paparelli ha risposto a due interrogazioni dei consiglieri regionali Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle. Nella prima, la richiesta alla Giunta regionale di sollecitare urgentemente i comuni di Assisi e Narni affinché non autorizzino alcuna installazione di ripetitori di telefonia mobile fino al termine del confronto con amministratori locali e cittadini. L'assessore Paparelli ha risposto spiegando che la competenza per il rilascio di autorizzazione all'installazione di impianti radioelettrici ricade sui comuni. La consulta sulle norme in materia di telecomunicazioni non si è ancora insediata, detto l'assessore, e le linee guida per l'elaborazione dei piani di rete e di programmi di sviluppo per l'installazione di nuovi impianti radioelettrici sono state approvate e porteranno anche a un censimento delle strutture. Nella replica, Liberati si è dichiarato non soddisfatto perché ha detto non vengono previste forme di partecipazione, come detta invece da legge regionale, che è rimasta inattuata. A riguardo, ha rimarcato, stiamo ancora attendendo una risposta adeguata da parte della Giunta regionale sull'analogo caso di Gubbio. Nell'altra interrogazione, i consiglieri regionali pentastellati hanno chiesto le azioni che la Giunta intende mettere in campo per la tutela della salute pubblica e per la prevenzione e il monitoraggio della situazione ambientale nella conca ternana in riferimento alla contaminazione alimentare. Nella risposta, l'assessore Paparelli ha detto, tra l'altro, della riunione d'inizio mese al Ministero per lo Sviluppo Economico, dove è emersa la sussistenza di tutte le condizioni per avviare una iniziativa di politiche industriali che guardi alle dinamiche di reindustrializzazione sul territorio ternano-narnese. La regione, aggiunto, è fermamente intenzionata a riporre particolare attenzione alle vicende ambientali, sia rispetto allo sviluppo industriale degli anni precedenti, sia in relazione alle ipotesi di nuovi sviluppi produttivi. Liberati ha definito sospeso il suo giudizio in attesa del completamento della risposta all'interrogazione che dovrà dare, per competenza, anche l'assessore Fernanda Cecchini. Tuttavia ha auspicato che l'economia circolare non significhi produzione di CSS, a cui ha detto siamo fermamente contrari. Inoltre, ha aggiunto, non sono previste risorse di alcun genere per l'ambientalizzazione delle produzioni siderurgiche, che secondo gli esperti necessita di almeno mezzo miliardo di euro. Sull'argomento, il Presidente della Commissione Brega ha proposto ai commissari di tenere aperta la tematica, prevedendo in proposito una serie di audizioni con i diversi soggetti interessati. La Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa ha ascoltato i promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare con oltre 3.000 firme di cittadini umbri riguardante le modificazioni sul ruolo dei distretti sanitari che, a loro dire, hanno perduto la piena centralità sul territorio e l'integrazione con il Dipartimento Prevenzione. Nella proposta di legge si chiede anche la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alla scelta delle priorità in campo sanitario e l'attribuzione di risorse ai distretti tramite quote capitali e pesate secondo i parametri di natura epidemiologica e demografica. La proposta di legge era stata già presentata nella precedente legislatura senza ottenere alcun esito. Il Presidente della Commissione, Attilio Solinas, ha detto agli intervenuti che sarà tenuta in debita considerazione e ha incaricato gli uffici di verifici quanto già fatto in precedenza dalla Commissione Sanità, assicurando l'impegno a condurre l'istruttoria su questo progetto di legge. Il Corecom dell'Umbria ha organizzato a Palazzo Cesaroni un convegno sull'emittenza televisiva privata. Il sistema dell'emittenza televisiva privata deve puntare sulla qualità e sull'innovazione. Auspicabile una cabina di regia regionale per una distribuzione selettiva delle risorse europee e nazionali. Le realtà televisive locali devono essere messe in condizione di reggere la competizione sui contenuti. Bene la previsione di una parte del canone RAI a favore dell'emittenza privata. Sono alcuni importanti passaggi emersi nel convegno organizzato dal Corecom dell'Umbria a Palazzo Cesaroni sul sistema televisivo e l'emittenza privata, crisi e prospettive. Molto ricco il programma dei lavori che ha trovato particolare partecipazione in una tavola rotonda conclusiva dove è intervenuta anche la presidente della giunta regionale, Catiuscia Marini, che nel fotografare la difficile situazione attuale che sta vivendo l'editoria regionale, soprattutto nel settore della carta stampata, ha auspicato una maggiore sinergia tra pubblico e privato, garantendo in proposito la massima disponibilità della regione. Il saluto dell'Assemblea legislativa è stato portato dal vicepresidente Marco Vinicio Guasticchi che ha parlato tra l'altro di una fase di transizione dove spesso gli editori si sono cullati su facili finanziamenti statali. Rispetto alla legge sull'editoria, attualmente se ne sta costruendo una a livello parlamentare. La regione non può legiferare, può fare azioni di sensibilizzazione. Esprimo dubbi, ha detto, sul fatto che il Corecom si faccia parte proponente in quanto il suo ruolo di garante super partes potrebbe essere offuscato da iniziative, seppur valide, che possono però diventare involontariamente di parte. Ad organizzare l'iniziativa la presidente del Corecom dell'Umbria, Maria Gabriella Mecucci. Questo convegno mi pare che ha avuto una conclusione molto interessante e ricca di sviluppi futuri. Intanto è stato molto importante perché ha espresso una grande consapevolezza che hanno tutte le forze politiche per la presenza che c'è stata e in particolare i livelli istituzionali della crisi del sistema informativo Umbro. Questa vasta consapevolezza mi mette assolutamente in condizioni di essere ottimista sul fatto che in tempi brevi e pene si arriverà ad un provvedimento regionale nei confronti di tutto il mondo dell'informazione, in modo tale da privilegiare in questo ambito la qualità dell'informazione e la qualità dell'innovazione. Credo che questo sia il primo ottimo e eccellente risultato di questo convegno. Convegno a Palazzo Cesaroni dell'Associazione degli ex consiglieri regionali, presieduta da Pierluigi Castellani. Il tema nuovo regionalismo, riordino funzionale e territoriale. La prossima rappresenterà una legislatura costituente per un nuovo regionalismo in Italia. L'Umbria non deve avere il timore del cambiamento, semmai ci dobbiamo porre il problema sul come esserne protagonisti, perché disponiamo sia degli strumenti che delle persone giuste per farlo. Lo ha detto il sottosegretario Gian Piero Bocci nel corso del convegno organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali, che si è tenuto a Palazzo Cesaroni sul tema nuovo regionalismo, riordino funzionale e territoriale, che ha avuto quali relatori il professor Fabrizio Figorilli, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Perugia e l'ex consigliere regionale della democrazia cristiana Pino Sbrenna. Figorilli ha detto che con la riforma costituzionale c'è una forte riconduzione di molte competenze al potere centrale dello Stato, è necessario colpire le duplicazioni di competenza che tuttora circolano dal 1970. Per Sbrenna occorre risolvere il problema delle regioni a statuto speciale e del ridimensionamento dei comuni. Prima delle macro-regioni, che necessitano di confronti adeguati e tempi lunghi, si possono fare azioni che salvaguardino l'identità territoriale, senza toccare la Costituzione. A portare il saluto dell'istituzione è stato invece il vice presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Vinicio Guasticchi, che è entrato nel merito di alcune questioni. Fino a oggi, ha detto, abbiamo visto solo riforme raffazzonate, come la riduzione del numero dei consiglieri e lo sbaglio enorme è consistente nella volontà di eliminare le province prima ancora di capire come riordinare le molteplici funzioni che questi enti svolgono. La riorganizzazione territoriale delle regioni non è qualcosa che si può fare a tavolino, ha detto Guasticchi. Abbiamo il dovere di guidare le riforme e far capire all'esterno cosa significa riorganizzare un paese, non sui mal di pancia, ma con adeguate strategie. E si è svolta nell'aula consigliare di Palazzo Cesaroni una simulazione del Parlamento europeo dei giovani, consistente nel dibattito e nella successiva votazione su tre proposte di risoluzione della Commissione per le politiche europee. Promossa questa iniziativa dal servizio comunicazione e educazione alla cittadinanza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, animata dagli studenti dell'Istituto di istruzione superiore scientifico e tecnico di Orvieto. Gli studenti orvietani hanno realizzato il progetto in collaborazione con l'Associazione Parlamento europeo dei giovani, promosso dall'Assemblea legislativa dell'Umbria con le attività del servizio comunicazione educazione alla cittadinanza. Hanno discusso, alternando l'uso della lingua italiana a fluida esposizione in lingua inglese, tre proposte di risoluzione riguardanti tematiche individuate dalla Commissione per le politiche europee. Cambiamento del clima, diritti umani di migranti e richiedenti asilo, adozioni per coppie di fatto eteroaffettive e omoaffettive, tutte approvate a maggioranza, non senza un dibattito profondo partecipato nel pieno rispetto di regole e tempi. I giovani si sono dimostrati attenti e preparati, contrariamente all'idea diffusa di un presunto disinteresse delle giovani generazioni a questioni politiche preminenti. Bene, ci troviamo qui oggi a Perugia e stiamo assistendo ad un evento che la nostra associazione, il Parlamento europeo giovane Italia, chiama GA Day. GA sta in inglese per General Assembly, ovvero Assemblea generale. Infatti oggi stiamo proprio simulando la tipica Assemblea plenaria del Parlamento europeo, quello vero. Questo è un tipo di evento che è nato abbastanza recentemente perché infatti normalmente la nostra organizzazione organizza eventi di portata nazionale dalla durata di all'incirca 5-6 giorni che prevedono anche diversi tipi di attività quali team building, lavoro in commissione e poi per l'appunto simulazioni di Assemblea. Questo qui è un tipo di evento che come ho detto è più recente con la quale la nostra organizzazione sta cercando di aumentare la propria capillarità sul territorio. Infatti possiamo quasi dire che anche noi soffriamo di una cosiddetta questione meridionale, però proprio negli ultimi anni grazie a questo tipo di eventi ci stiamo espandendo di molto. La prima proposta di risoluzione sul cambiamento del clima prevede l'affiancamento di centrali di produzione elettrica da fonti rinnovabili a quelle che utilizzano combustibili fossili. Nel dibattito sono stati contestati alcuni punti, sono emerse perplessità sull'utilizzo del nucleare, sia pure di quarta generazione. La proposta accolta con 16 voti favorevoli e 12 contrari, nessuno astenuto. La seconda proposta di risoluzione riguardato i diritti umani a fronte delle difficoltà che gli stati membri incontrano nella gestione del flusso dei richiedenti asilo, che entrano nell'Unione Europea. Esprime infine la speranza che l'Europa torni al suo ruolo di protagonista nella promozione di quei valori che ne hanno ispirato la Fondazione, che sono la garanzia del rispetto dei diritti umani. Proposta approvata a maggioranza, con 23 favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti. La terza proposta di risoluzione rispecchia il tema che angustia in questi giorni anche il Parlamento italiano, alle prese con la discussione sulla proposta di legge delle unioni civili. Tratta infatti di adozioni e della necessità di dare una famiglia agli orfani e ai bambini abbandonati. Concerne anche il riconoscimento delle coppie di fatto e la possibilità da parte di questi ultimi di adottare. Esprime la necessità di estendere l'accesso alle adozioni a coppie di fatto eteroaffettive e omoaffettive a single, pur tenendo saldi i restanti criteri di valutazione delle capacità adottiva. L'Aula si è divisa. 12 voti a favore delle adozioni a tutte le coppie, 10 contrari, 6 astenuti. Molti interventi hanno difeso la famiglia tradizionale formata da mamma e papà, ma la maggioranza ha sdoganato la libertà di accesso all'adozione di famiglie anche composte da coppie eteroaffettive e omoaffettive, due termini destinati a sostituire quelli attualmente in uso. Credo che un'occasione come quella di oggi sia un'occasione importante sia per il mondo della scuola, spero anche per il mondo delle istituzioni. Aver costruito un'esperienza così, spero significativa, come quella di portare dei ragazzi all'interno di una sala consigliare per portare un lavoro che è appunto una simulata di Parlamento europeo, una seduta di Parlamento europeo, con tre risoluzioni abbastanza significative rispetto al dibattito attuale. Ci sembra un'occasione per dimostrare che i nostri giovani sono ragazzi attivi, intelligenti, propositivi e che non sono assolutamente persone disinteressate dai contesti in cui i ragazzi operano. L'importante è creare alcune occasioni di lavoro e di approfondimento per abituarli ad avere un atteggiamento propositivo. Hanno assistito al dibattito anche gli studenti di tre scuole perugine, Pieralli, Volta e Giordano Bruno, oltre naturalmente alla Presidente dell'Assemblea Legislativa Donatella Porzi e al Vice Presidente Valerio Mancini, il quale al termine dei lavori ha premiato i giovani protagonisti dei migliori interventi effettuati in aula e la migliore delle tre commissioni specifiche, quella concernente il clima. Sono stati riconosciuti autori dei più efficaci interventi Gabriella Federici, Aurora Mostarda, Nicola Biancalana, Naomi Virgilio. Anche per questa edizione è tutto. Mi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive della Regione, è disponibile anche in rete sul sito consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.